Che cos'è il kit INA Gruppo Accessori? La distribuzione ausiliaria alimenta differenti funzioni fondamentali per motori e sicurezza. Il primo sistema Gruppo Accessori era progettato per far muovere l'alternatore. Nel corso degli anni sono state aggiunte sempre più funzionalità. Ora è un sistema fondamentale, senza il quale nessuna autovettura moderna potrebbe funzionare. Oggi il sistema Gruppo Accessori è sottoposto a maggiori carichi, in primo luogo derivanti dalle dimensioni sempre maggiori degli alternatori, necessarie per coprire l'incremento di potenza delle autovetture, in secondo luogo a causa del downsizing che incrementa il carico sull'intero sistema. Come conseguenza del carico a cui è sottoposta la distribuzione ausiliaria, i costruttori di veicoli hanno iniziato ad introdurre intervalli di manutenzione programmati. Il kit INA Gruppo Accessori fissa nuovi standard nella riparazione della distribuzione ausiliaria. Il kit INA Gruppo Accessori include la cinghia Poli-V, tensionatori, pulegge, accessori e lo schema del percorso della cinghia del veicolo. In base all'applicazione il kit può anche includere OAP, damper o pompa acqua. Poiché lavoriamo fianco a fianco con le case costruttrici, nella progettazione e nello sviluppo degli autoveicoli, i nostri kit contengono tutto ciò che serve per una riparazione professionale. Ad ogni modello di autoveicolo corrisponde un ben preciso kit INA. Questa soluzione di riparazione naturalmente è in qualità di primo impianto, perché INA è il leader di mercato dei componenti del gruppo accessori. Grazie. Grazie a tutti